Grazie a tutti. I partecipanti alla 34esima edizione di Vivicità, la manifestazione ipodistica promossa dalla WISP in contemporanea con altre decine di città italiane e straniere. L'iniziativa ancora una volta vuole unire lo sport all'impegno sociale, toccando temi importanti quale pace, ambiente, dialogo e diritti. Quest'anno il progetto del 2017 prevede che tutti i partecipanti correranno a costruire dei campi di gioco, delle strutture sportive semplici, nei campi profughi dei siriani che scappano dalla guerra del loro paese e si rifugiano nel primo avamposto libanese. Complice la bella giornata, la manifestazione ha visto la partecipazione del pubblico di ogni età e provenienza ed è stata anche l'occasione per ribadire importanti concetti legati alla solidarietà. Allora io sono la trapiantetta, Bruzzo, per tutte le persone che comunque dopo un trapianto continuano a vivere e devono vivere.